buon salve buon salve bentornati in questo nuovo video continuiamo a giocare per quale motivo o le miscreanti in questa maniera che brutte che sono dicevo monou io quando vedo le carte sbagliate mi prude un occhio che non avete idea ma non me ne ho accorto quindi per questa volta mi auto scuso monou monou fatine un mazzo che ha giovato tantissimo dalla stampa del nuovo hacker il nuovo ninja che ha dato una spinta in più ha dato una spinta molto più tempo al mazzo ed è un aspetto fondamentale perché questo è un mazzo che deve giocare molto velocemente nei primi turni continuare a generare vantaggi e cercare di non arrivare oltre al mid game siamo 2 a 0 in questa lega siamo 2 a 0 e prima di continuare io vi ricordo del nostro sponsor fantasia store che supporta il canale mi raccomando trovate sempre il link in descrizione al negozio negozio in cui trovate qualunque tipo di cosa ovviamente tutto ciò che riguarda il mondo nerd partendo dai giochi da tavolo alle nostre fantastiche figurine di magic ma anche yugioh pokemon qualunque roba avete il codice sconto isen 5 ricordatevi che se dovete comprare e comprate tramite il codice sconto isen 5 oltre ad avere lo sconto supportate anche il canale quindi tutti questi contenuti gratuiti quindi faceci un pensiero quando dovete comprare mi raccomando supportiamo i negozi italiani e intanto continuiamo questa lega guardate che belle tutte queste tutte queste isole in bianco e nero con questo bordino blu le ho prese poi sono fantastiche mi piacciono veramente un sacco anche se anche quelle nuove non sono per nulla male e cominciamo con questa nuova partita intanto vedo un ninja di seconda e questa cosa si tiene con mutagenica dietro spelpirs cose mi piace mi piace mi piace vediamo intanto che cosa abbiamo beccato ma terra fatina non ce lo leverà assolutamente nessuno ok ok abbiamo moon e bind the monster il problema di bind the monster è che non sappiamo che cosa abbiamo di fronte potrebbe essere una carta incredibile se siamo contro boros come una carta veramente scarsa quindi alla cieca considerando che abbiamo anche una mutagenica la mettiamo in fondo hacker in realtà con lo spelpirs non mi dispiace quindi se lo teniamo in top perché ci permette di fare il prossimo turno hacker peschiamo open dispelpirs e vediamo che succede così non dobbiamo per forza sningiare a 2 che in alcune situazioni potrebbe essere pesante anche soltanto uno dei più classici disney o 2 botto sopra morto e visto che sono tappe d'auto non ho modo di proteggerlo non ci faccio vantaggio ed è non bellissimo non bellissimo ecco intanto montagna e chromatic star ok ok noi andiamo per il nostro piano potrebbe essere goblin combo è quello che mi viene in mente un po' di più noi intanto continuiamo con il nostro piano e vediamo che succede questo lo yieldiamo e gli diciamo di sì ok il discorso è a questo punto cosa vogliamo fare tenerci open dispelpirs ma in realtà faccio un'altra fairy seer così che se c'è poi una terra riusciamo a fare anche altro ninja stutter è una carta stutter è una carta preordain non mi piace ne abbiamo già uno stutter in realtà ce la teniamo in cima è una carta forte soprattutto in early game e come avere un counting in realtà no abbiamo storm mannaggia e mi hai pure salutato i giochi storm porca miseria va bene attacchiamo a questo punto visto così può aver senso sningiare come no è un disastro questa cosa è un disastro probabilmente in questo cioè prima riusciamo ad appoggiarli i nostri ninja meglio è speriamo di pescare un'altra terra almeno questa peschiamo queste ne peschiamo un'altra e questo è un disastro scartiamo questa passiamo passiamo però c'erano più probabilità di vedere terra così che non facendo nulla e poi ripeto prima facciamo ste carte cioè prima appoggiamo i nostri ninja per vedere più risposte possibili meglio è tendere di dispute va bene il problema è che attualmente storm è talmente solido che a turno 3 scomba quasi sempre il problema è tanto non è che non possiamo fare assolutamente nulla questo va bene altro rito questo tra l'altro ci blocca è vero che lo possiamo uccidere una volta che ci ha bloccato il pezzo con mutagenica però non è che siamo freschissimi va bene deadly dispute se c'è la relae più o meno siamo già morti più o meno siamo già morti l'unica è pescarsi un'altra terra stare open di doppio counter e sperare che basti ma non penso ma non penso però è l'unica cosa che mi viene in mente perché più che questo non possiamo fare certo cabal ritual considerate che ha già uno storm count di 8 dire che il relay adesso che è 9 più si pesca una carta di grammatica e gli gira tipo mezzo mazzo questo è turno 3 turno 3 pit bog va bene c'è addirittura potenzialmente lui non fa radè ah attenzione vuol dire che è morto questa questa è grave questa è grave però vuol dire che ogni tanto si inchiodano anche loro questa è già una cosa molto interessante ok lui qua non si aspettava la mutagenica che è un grosso punto a favore per noi ok qua always yes always hell da questo punto lui ha 3 carte in mano noi abbiamo i nostri i nostri counter oddio spell pierce in realtà non fa tipo nulla ma veramente niente quindi a questo punto almeno una patina andrei a giocare il moon in realtà non è male però noi il prossimo turno vogliamo stare open di doppia cosa ma si facciamo top ma in cima mettiamo mettiamo counter spell ok 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 ripassa terra attacchiamo moon non è male in quella cioè in cima adesso perché no il prossimo turno possiamo chiudere la partita ok perché qua facevamo ehm per i miscreant open comunque di counter o stutter più spell pierce e sningiando arriviamo a 7 danni quindi G1 intanto è andato e siamo contenti così allora 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 qua io sono abituato a vederle così mi piace di più qua dobbiamo mettere tutte le hydroblast tutti i dispel addirittura annul addirittura intanto tutti i counter a 1 li dobbiamo avere via questo via questo dobbiamo togliere tutte le cose tra virgolette più pesanti mutagenic grow è totalmente inutile tanto poi ci abbiamo anche bind the monster è completamente inutile e direi basta il resto ci teniamo tutti i counter che possiamo a 1 proprio tutti addirittura annul toglie il il sassetto il synthesizer toglie i petali che gli permettono di fixare a caso quindi un po' di roba un po' di roba la toglie ok noi qua vabbè dobbiamo fare almeno una fatina la dobbiamo fare turno 1 dispel hydroblast top 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 assolutamente assolutamente dobbiamo avere quanti più counter a 1 possibile ok 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 terra si attacca ok un ninja lo facciamo questo serve sempre qua lo yieldiamo yes passiamo e dobbiamo stare open eventualmente per cercare di fermargli magari i riti o le sue cose il rito della fiamma va bene la 2 va bene questa è una deadly dispute no cabal ritual proviamo a tirare i dispel questa è una pyroblast questa è una pyroblast eh sì eh sì eh sì non è bastato neanche avere dell'interazione a turno 2 comunque va bene fare le da un tot ma non da troppo tra virgolette ok ha girato 3 terre comunque ha fatto soltanto il relay da 5 ok non può attaccare attacchi e io giro questo però terra abbiamo 1,2, eventualmente 3 in realtà passiamo così passiamo così proviamo a non farglielo risolvere questo relay ok poi vediamo che succede però proveremo a non farglielo risolvere poi se lo risolve da poco non è un problema ok qua tiriamo annul ok vediamo se vuole fare terra relay da 3 a me va bene ok ok relay da 3 è accettabile è accettabile gira disputa vale diures vale vale e una terra ok questo uccide il il kessing ok facciamo un preordain tanto roba da scartare di moon ne abbiamo e devo fare devo fare allora la terra sicuramente va bottom il discorso è che noi vogliamo fare terra e avere doppia risposta quindi cercare un counter a 1 ma per cercare un counter a 1 non posso prendere questo preordain considerando che pesco di moon ci provo male che vada appoggio questo bene bene oddio bene per i miei tira diures eh quindi forse devo comunque fare questo a meno di pescare un'altra counter a 1 yes annul che è una carta però a questo punto faccio così almeno posso counterare la disputa top 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 va bene va bene almeno se mi tira diures gli rimane su un solo mano nero mi scarta dispel io tiro sprite su disputa ho 4 danni pesco per dain va bene va bene va bene va bene e un'altra possibilità era quella di non giocare la ferisir e fare starter qui e dispel su disputa però però bella bella ma non bellissima questa la counteriamo questa lui doveva tirarla se no anche perché se no non mi baitava la sprite va bene poi lui non sa che io ho un'altra sprite in mano cioè in mano in cima questo è è però lui c'ha 3 carte in mano io quasi quasi qua forzo forzo mi forzo a pescare pesco un sacco e facciamo così attacchiamo così mi riprendo anche la sprite prendiamo i blocchi e facciamo ninja su ninja e ninja su sprite così ci siamo ripresi in mano doppio abbiamo abbiamo pescato e non pescato e scartato con con l'hacker abbiamo messo in campo questo ninja abbiamo ripreso in mano anche la starter ok ok qua possiamo yieldare vediamo che cosa succede lui parte con 4 carte in mano e un solo ner quindi dovremmo essere forse riusciti a inchiodarlo non lo so manamorfosi considerando anche che lui ha già visto doppia relè e non ha girato neanche mezzo mazzo quindi sì che un po' di cose può farle ma in teoria dovrebbero essere limitate è limitata anche dal fatto che se non fa una relè troppo esagerata noi poi il prossimo turno abbiamo un tot di counter in mano e questo potrebbe essere un enorme punto a favore nostro concede la partita concede la partita ecco Monu con tutti questi counter è uno dei pochi mazzi che cerca di tenere botta a storm è veramente uno dei pochissimi mazzi perché poi storm altrimenti batte quasi tutto il resto quindi molto bene molto bene Monu è sicuramente un metacall interessante in questo momento patisce soltanto un sacco veramente i boros però speriamo di non beccarli sostanzialmente e va in the monster lì apposta allora Siding Raken Siding Raken giocherà qualche combo poco da fare qualche tipo di combo e intanto abbiamo una mano interessante mentre starà giocando o storm o famigli più o meno gioca solo questi mazzi qua Malliga 5 Malliga 5 che è già una cosa interessante per noi allora tiene a 5 Terra Miscreant intanto il nostro terra fatina l'abbiamo fatto se peschiamo un ninja andiamo avanti se no siamo open di sprite se no vediamo altro storm altro storm mannaggia mannaggia ferisir è una carta però anche quest'isola la terza terra noi la vogliamo e quasi quasi faccio top top e metto l'altra ferisir tanto poi mi pescherà comunque l'isola ha senso a questo punto la fatina non la vogliamo e ci prendiamo la terra però che disastro non è una bella cosa quella che sta quella che deve succedere però probabilmente si faremo così anche perché dobbiamo dobbiamo appoggiare qualcosa ok questa Miscreant in realtà questa Miscreant mi fa pescare e a sto punto facciamo top top e attacchiamo va bene va bene qua l'unica cosa negativa è che appunto qua una spell peers poteva essere interessante reckless impulse eh si facciamo Miscreant ok terra attacchiamo e comunque qualche counter ce l'abbiamo eh abbiamo addirittura annul per il synthesizer che è interessante sicuramente interessante e qua gli facciamo annul di main di main si è stato sempre forte praticamente questo annul eh va bene va bene vediamo se vuole tirare direttamente relè questo va bene e basta ok ok facciamo questa terra la facciamo la attacchiamo per tre danni ok adesso questa starter più o meno counter ha tutto qua ci prendiamo un danno va bene attacchiamo attacchiamo 11 va bene non mi metto a counterare questo pietrello di roto indubbiamente non adesso e facciamo sprite ma vogliamo farlo? no counter eventualmente soltanto un peschino questa va bene questa va bene l'è da tre la accettiamo questo lo accettiamo anche perché appunto se no avrei dovuto fare starter che gli avrebbe dato una carta in più quindi era abbastanza inutile se faceva un peschino allora era praticamente la stessa cosa intanto facciamo un ninja su ovviamente la miscreant perché mi fa pescare un'altra carta e facciamo un'altra miscreant passiamo due tre quattro cinque sei sette ok va bene va bene prendiamo due danni prendiamo due danni non è un problema questo lo andiamo a counterare abbiamo abbastanza fatine lo ha zero carta in mano concede la partita bene 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 allora tutti counter a uno proprio tutti 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 come abbiamo visto prima tra l'altro lui gioca anche reckless impulse che sta sotto hydroblast quindi noi siamo contenti qua via spire golem via questo le mutageniche i bind the monster e ci siamo sei data abbastanza pulita sei data molto molto pulita è vero che hanno il ripeto non è che faccia tutta questa grande cosa però meglio di niente meglio di niente indubbiamente questa è una mano particolare la teniamo c'è qualcosa che aiuta a fermarlo fin dall'inizio tra cui il spell pierce quindi io qua non faccio patina perché voglio counterargli il peschino di secondo eventualmente facciamo terra e facciamo miscreant passiamo e a questo non posso dirgli nulla purtroppo va bene lui ci ha giocato molto bene intorno tattiamo e appoggiamo appoggiamo il nostro hacker non ha già sei mana quindi figuratevi ispel proviamo a cercare una landa bottom bottom non c'è la landa siamo praticamente morti e scartiamo per i seer abbiamo la miscreant abbiamo altre cose che ci sono utili va bene va bene con tutto quel mana di terzo di quarto in realtà che deve ancora landare si è girato la relae va bene fa veramente quello che vuole lui a questo punto certo belle ste terre dendri dispute figuratevi figuratevi no dovevamo girare la terra e ma non bastava comunque non bastava comunque non serviva a niente e è quello il problema se non riesce ad inchiodarlo non serve veramente a nulla facciamo per dayne top top ci proviamo a fermarlo con doppio counter e vediamo che succede il problema è che lui ha di nuovo un sacco di mana e ha girato un'altra relae come riti ha dark ritual questo rito qui che non possiamo counterare che non è bello questo proviamo a dirgli di no così da togliergli il nero in realtà noi gli toglieremo il nero assolutamente e purtroppo va bene però possiamo provare a togliergli la mana morfosi sostanzialmente questo va bene in realtà poi c'è la deadly dispute che può fare saccandosi la cromatica no perché deve però tanto può saccarsi l'esperimento quindi forse non ha senso counterare la mana morfosi ma ha senso counterare delle dispute non lo so vedremo la landa l'ha già fatta ok ok eh 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 facciamo dispel facciamo di tanto questa si cicla anche quindi è una carta free che ha poco senso poco senso non andare a counterare lui qua tirerà delle dispute cercherà di vedere una pyroblast se vede una pyroblast countera perché tanto gli aggiunge due mana questa mana morfosi che il counter su mana morfosi per lo meno gli toglie due mana almeno ci prova a togliergli due mana ma lui qua in realtà gli basta anche soltanto fare un'altra relae vabbè c'è un altro rito va bene va bene noi siamo a sette eh in tutto questo vorrei far notare questa cosa che siamo a sette c'è anche un gutshot che può aumentare lo store count andando a togliere il moon tra l'altro se fa gutshot lì sopra mi spara un danno anche a me vado a 6 attacca disastro potenzialmente può provare a chiuderla questo turno vai passando doppio dispele questo che non ha senso peccarsi n counter e comunque passarci sopra perché pesca 10-12 carte a turno ha veramente poco senso va bene cromatica siamo a 5 gutshot siamo a 4 relae siamo a 3 attacca siamo a 2 gira 4 pyroblast mamma mia e gg 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 perché tanto non ha senso non ha senso basta che mi tira due spell va bene e submittiamo ci riproviamo in g3 dove però partiamo noi se non parte con soltanto terre tappate e non ha 6 mana a turno 3 magari anche degli spell peers ci facciamo qualcosa per assurdo a non è stato più forte di spell peers in questa partita pazzesco è da considerare questa cosa questo aspetto è veramente da considerare c'è da dire che storm attualmente se ha una mano media non lo fermi non lo fermi non puoi avere tutti i counter che vuoi ma non lo fermi non c'è modo quindi si gioca tantissimo sulla varianza e sul sperare che lui si inchiodi a caso come è successo al nostro avversario di prima ma Siding non è uno di quei giocatori che si inchioda ok allora ci riproviamo ci riproviamo qua abbiamo ninja abbiamo counter spell ci proviamo anche se non uno dei counter migliori ma se riusciamo ad appoggiare il più velocemente possibile questo ninja quindi di secondo sostanzialmente e se lui non parte subito con la pitbog per fare peschino ogni secondo abbiamo forse tempo di pescarci qualche interazione per provare ad inchiodarlo non lo so ci proviamo allora terra mischia e passiamo gutshot non abbiamo più tempo pitbog certo terra vai però abbiamo counterspell almeno e ovviamente è partito subito di pitbog e c'è la gutshot dietro va bene va bene facciamo preordain andiamo a cercare qualcosa annul annul ma ci abbiamo questi ma però può avere senso può avere senso facciamo top top terra passiamo e vediamo che succede vediamo che succede il problema è che in una guerra di risposte di questo tipo dove noi non abbiamo pezzi a terra che pescano il primo relay che tira ha vinto però soprattutto se continua ad andare se smette di andare mezza possibilità c'è se continua ad andare no e infatti continua ad andare con tipo quattordici barra quindici terre che si giocano non se ne giocano di più ed è incredibile questa cosa questo no questo non serve più a nulla in questo momento passiamo spell pierce non serve già più a nulla turno 3 ed è incredibile ed è incredibile e che dobbiamo fare proviamo a counterarlo proviamo a dirgli di no e moriamo dalla sua scombata perché di nuovo sei mano a turno 3 e non possiamo veramente a turno 4 in realtà e non possiamo veramente farci più nulla non possiamo veramente farci più nulla cioè poi vediamo magari non ha grazie al fatto che abbiamo canterato il peschino è già qualcosa questa cosa ha due carte in mano è già qualcosa è già qualcosa eh noi dobbiamo fare così e passare open di counter da 1 o annulo di spell più di questo non si può fare perché un pezzo a terra dobbiamo tenerlo dobbiamo tenerlo diciamo che quei gutshot ci ha non dico distrutto ma distrutto ma distrutto eh vabbò dobbiamo canterare i peschini non Night Whisper però non Night Whisper va bene Dispute questa proviamo a canterarla non dobbiamo fargli trovare il relai sostanzialmente se riusciamo a non fargli trovare il relai forse riusciamo a fare il blast va bene Synthesize c'era un altro che Essing io non ho ancora visto una Hydroblast e quindi sostanzialmente moriremo da sti cosi qua malamorfosi non stiamo cercando se sta facendo questa cosa va bene che dobbiamo fare che dobbiamo fare qua ci sono n peschini dobbiamo stare open dobbiamo stare open stare open e sperare poi di topdeckare recentemente però questi sono due danni non vedo come non vedo come però ci proviamo ma non vedo come ok gli bastano 5 spell di cui una è gratuita e poi io non ho modo di spaccare questi quindi non so come fare non so come fare questo se passa siamo morti va bene e siamo morti pure con questo però siamo morti pure con questo no ma non c'è modo non c'è modo quanto due spell le può attirare c'ha pure Gatshot manamorfosi fa veramente quello che vuole gg gg storm nonostante questo sia uno dei mazzi che tende a batterlo di più se ripeto se ha una mano media quindi non saltano nel drop di queste non c'è modo di fermarlo neanche con tutti quei counter rapidi quindi anzi a maggior ragione rischi che tanto se il mana ce l'ha andando a counterare i suoi pezzi gli dai ancora più possibilità di tirare le grosse quindi ha proprio poco senso ad esistere proprio poco senso ad esistere ok ok allora quinto match partiamo noi zero terre però questo è un mulligan e questa è una mano proprio brutta 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 dobbiamo a ligare nella cinque questa la teniamo perché perché la teniamo dobbiamo togliere una mutagenica e un ninja per forza si terre passiamo vediamo siamo 3-1 ok questo intanto è buono annull è il suo matchup quindi questa bottom questa top terra passiamo ok ok munitions eh disastro disastro però noi stingiamo lo stesso perché perlomeno questo è un danno cioè sono due danni e peschiamo passiamo stiamo open di annull e vediamo che succede ok questo lo counteriamo perlomeno se vuole uccidermi questo deve saccarsi un artefatto cioè una terra no frogmite frogmite preordain preordain altro annull a questo punto facciamo top top terra attacchiamo tanto questo si è già ciclato vediamo se muore la frogmite ok e facciamo perisir open di annull di nuovo mutagenica in realtà no prendiamo preordain in cima e passiamo con le munitions in campo io non so cosa riusciremo a fare ho dei seri dubbi su quello che riusciremo a fare eh podcast va bene va bene preordain bottom bottom preordain bottom bottom terrina attacchiamo va bene abbiamo messo in fondo al mazzo quattro carte totalmente inutili passiamo passiamo e lui comunque ti farsi saltare le terre non è felicissimo proviamo a fare sprite perchè perlomeno si sacca due terre adesso almeno ci proviamo perchè due terre in meno in questo spot sono abbastanza eh va bene va bene va bene va bene va bene risolve discepolo eh però c'è un'altra terra va bene va bene e facciamo un bind the monster qua sopra passiamo ci prendiamo un danno perlomeno quella fare lì non attacca però non so come uscirne poi io rimango sempre perplesso da questa cosa dal 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 fatto che giochino così poche terre trastorna affinity e ogni volta le vedono sempre facciamo poi annul ok ok non ha senso non ha senso va bene è successo passiamo passiamo va bene infatti è che uno dice vabbè io provo a forzare cercare di togliergli le terre ma tanto ne hanno sempre in mano perchè saccarsi tre terre in quello spot se poi giocandone 18 19 quelle che sono in 20 cioè in 18 carte ne ha viste 7 sono tante sono proprio tante considerando il numero di carte che gioca cioè il numero di terre che gioca proviamo eh ma tanto se lo sa no ma non ha senso andare avanti in questa partita con le munitions in campo e tutte queste terre lì anche perchè io faccio bind the monster e questi sono tutti proiettili contro contro c'è perdo vite e quelli sono tutti proiettili contro le mie patine e contro tutto quanto quindi dobbiamo mettere hydroblast per forza dico tanto ma tre le mettiamo gli altri annul e i vari dispel cosa dobbiamo togliere? spare golem lo smoke che è un chiodazzo un chiodazzo le mutageniche non sono brutte ma ma sono brutte sono brutte ma sono brutte probabilmente eh ma probabilmente anche tutte le mutageniche i bind the monster non sono male non sono male però forse questi sono un po' tanti e la domanda qui è che cosa vogliamo tenere perchè addirittura cioè da qui alcune delle carte più scarse sono i counterspell cioè rischiano di essere alcune delle carte più scarse che sono più lente e a questo punto limitiamo così e ci si prova ci si prova perchè i counter a uno sono più forti contro contro di lui sono più forti va bene keep non è male questa mano non è male allora terre e terisir ok un altro annul molto bene molto bene e un'altra terra tanto la terra ce l'abbiamo queste quali vogliamo entrambe quindi va bene così molto bene anche avere l'hacker e non l'altro ninja vediamo se ci fa terra galvanica ci fa terra galvanica va bene a questo punto passiamo tanto poi abbiamo un'altra terra in cima che ci permetterà di fare hacker questo gli diciamo di no ok terra appoggiamo hacker open comunque di annul il problema è che questo non farà vantaggio ma farà qualità però questo no va bene attacchiamo attacchiamo in questo momento pain the monster non ci serve ma neanche questa terra quindi scartiamo la terra va bene va bene lui è sopra di carta in mano rispetto a noi e non di poco va bene attacchiamo vediamo se questo passa ok yes e via un bind the monster passiamo passiamo a questo punto nella sua end comunque proveremo a fare almeno una sprite eh va bene non possiamo non possiamo dirgli nulla ok rigor wellspring va bene va bene va bene anche questo possiamo dire nulla ma cominciamo a fare almeno una sprite così poi abbiamo perlomeno sprite da due e qua mi vorrà tirare altra deadly dispute va bene pesca 3 mette treasure ok annulla attacchiamo allora un enforcer tra virgolette si può ancora gestire un enforcer di più non so come fare il problema è che lui ha 8 carte in mano e noi ne abbiamo 4 che questo è un macello quindi o è pieno di landa in mano oppure non so che dire ok questo gli diciamo di no perché il secondo enforcer non lo reggiamo proprio a livello di race spalpears beh dobbiamo dirgli va bene poi fargli buttare in campo tutto il resto facciamo buttare in campo tutto il resto per forza di cosa però perlomeno abbiamo fatto tra virgolette vantaggio carte attacca ok e makeshift munitions ma contro le munitions in realtà abbiamo l'hydr blast si è tolto una terra va bene in realtà cambia poco ecco allora dobbiamo fare così passiamo un'altra terra cioè si è saccato tre terre va bene va bene facciamo sprite in hand facciamo sprite in hand dobbiamo cercare di pescare racconers racconers si è saccato un'altra terra in tutto questo lui cerca un botto e un'altra terra ancora che in realtà è allucinante perché sta vedendo una quantità di terre che e quindi risorse in realtà quindi risorse che è impressionante abbiamo un counterspell dobbiamo passare con counterspell lì dobbiamo passare uno due tre quattro qua proviamo a fare i counterspell cinque sei sette otto terre e si ferma ok no c'era un'altra terra e un altro enforcer e un altro enforcer e questo è il terzo enforcer terra terra facciamo miscreant e passiamo vediamo che succede ma è che mi sento tanto confident non stiamo giocando da tempo ma purtroppo è difficilissimo giocare da tempo se vede così quindi andiamo a quattro e moriamo da galvanica non è mai che solo peschini so come fare cioè è un casino e vabbè concediamo questa partita concediamo questa partita e no purtroppo siamo partiti molto bene ma poi siamo stati spenti da un affinity e da un altro storm che comunque sono due dei tier del formato diciamo che monou alla fine cerca di giocarsela il più possibile ma purtroppo purtroppo succedono anche queste cose comunque la lista è bella è bella addirittura questi anni l'abbiamo visto che sono più i match up in cui è utile che quelli in cui è inutile e quando è utile è veramente forte ma veramente forte ovviamente una carta che metagamezza un po' questa lista che dire io spero vi siate divertiti monou non l'avevo ancora portato sul canale non avevo ancora portato un qualcosa con il moon circuit hacker peccato un po' per il risultato non troppo bello però era sicuramente da mostrare quindi siamo contenti così poi probabilmente anche le sei date contro le varie affinity si potevano forse fare meglio non lo so è un po' da valutare a me non piace troppo tenere Spire Golem in quel match up non mi convince perché a parte le ranelle poi tanto il problema sono gli oppressori se gestisci gli oppressori con i vari counter tanto se non lo inchiodi in early game non vai avanti cioè puoi anche averli per cercare di bloccare la sua race ma se tanto non l'ha inchiodato in early lui poi tira 2-3 peschini in un turno e ti mangia in testa quindi mi piace molto di più questo approccio un po' più tempo ovvio ogni volta che passa uno o due peschini quindi poi non si recupera più infatti è un po' un disastro da quel punto di vista però se vi piace giocare mazzi tempo mazzi a base fatine in pauper ve lo straconsiglio noi ci vediamo al prossimo video mi raccomando continuate a seguire il canale per tutte le varie evoluzioni di meta ciao 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 Grazie a tutti.